Oggi sul BoLive parliamo di un affascinante progetto di ricerca che mira a far rivivere antichi strumenti musicali ottenendo una versione digitale del loro suono originale attraverso modelli acustici e matematici. A guidare questo progetto che ha ottenuto un finanziamento IRC starting grant è Michele Ducceschi, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi. Buon pomeriggio professor Ducceschi, grazie per essere con noi sul BoLive. Grazie a voi, è un onore, un piacere essere qui oggi. Ecco, per iniziare il progetto che lei sta guidando unisce due mondi che all'apparenza possono sembrare un po' lontani, quello dei computer e quello della conservazione di strumenti musicali storici. Ci spiega meglio gli obiettivi della ricerca e soprattutto in che modo è possibile ottenere copie virtuali di strumenti antichi magari custoditi anche in importanti musei. Certamente, la verità è che molti musei in Italia ma anche nel mondo hanno a loro interno nelle loro collezioni strumenti che sono appunto molto antichi e non restaurabili perché sono ormai diventati dei documenti storici. Quindi è importante da un punto di vista documentale preservare l'integrità di questi strumenti non suonanti perché appunto servono da documentazione ed è quindi importante insomma non andarli a toccare più. Quello che è successo è che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, i musei hanno promosso la costruzione di copie di questi strumenti in modo tale che si possa almeno avere un'idea di come questi strumenti suonino. Quindi l'idea del mio progetto è di fatto quella di utilizzare una tecnologia completamente digitale per costruire coppie virtuali, in questo caso, di questi strumenti e quindi aiutare in questo senso la conservazione e, come dire, l'arricchimento del patrimonio artistico e culturale attraverso una digitalizzazione che prende le mosse da una modellazione matematica e fisica. Immagino sia complesso comunque riuscire a ricostruire in maniera fedele il suono di questi strumenti. Quindi entriamo un pochino più nel dettaglio proprio del lavoro di modellazione che c'è dietro? Sì, certamente. La verità è che paradossalmente la prima equazione differenziale a derivate parziali che fu inventata da Lambert nel XVII secolo è un'equazione che parla delle onde che si sviluppano su una corda musicale. Quindi in realtà la questione di descrivere le onde sonore è una questione molto antica. Il primo modello matematico di fatto era un modello musicale e gli scienziati di mezza Europa dibattevano sulla bontà di questi modelli che venivano creati. Quello che è successo è che a partire dagli anni 90, con l'avvento di calcolatori elettronici di sufficiente potenza, ricercatori e musicisti hanno pensato di poter utilizzare la potenza di calcolo in modo tale da riprodurre questi modelli attraverso un computer. È chiaro che uno strumento musicale in effetti è un ecosistema estremamente complesso perché esistono tante sottocomponenti che interagiscono tra loro e quindi risulta molto difficile avere una realizzazione, diciamo, fedele del suono di uno strumento. Tuttavia sappiamo bene che la Commissione europea è interessata a finanziare progetti che sono ad alto rischio e questo progetto sicuramente si inserisce in questa casistica. In realtà quello che io ho fatto negli ultimi anni prima di trasferirmi a Bologna l'anno scorso è stato lavorare all'Università di Edimburgo nel Dipartimento di Musica dove esiste in realtà un gruppo di ricerca che da ormai direi un decennio almeno si occupa in maniera specifica di creare modelli fisici avanzati per la riproduzione degli strumenti acustici. Quindi la verità è che io mi sono messo a giocare un po' con questi modelli matematici e ho scoperto che forse c'è una possibilità di renderli realistici. Ho già sviluppato in realtà una serie di software che sono disponibili online e che appunto utilizzano la modellazione matematica per creare diciamo questi sintetizzatori basati su modellazione fisica. La sfida però in questo caso del mio progetto è proprio quella di rendere questi strumenti realistici. E quindi oltre alla modellazione matematica mi dovrò avvalere di una serie di esperimenti diciamo di benchmark che farò nel laboratorio di acustica musicale qui all'Università di Bologna dove andrò a misurare ad esempio le risposte di tavole armoniche che verranno costruite apposta da artigiani assecondando una serie di criteri anche storici organologici e quindi mi abbarrò insomma di una serie di misure sperimentali che andranno a coadiuvare ed aumentare diciamo il modello matematico. Quindi il modello matematico dipende da tantissime variabili tantissimi parametri che devono essere settati in maniera estremamente precisa. Però la mia scommessa insomma è quella che probabilmente se riusciamo ad addentrarci abbastanza insomma nella nella parte sperimentale riusciamo in un qualche modo ad ottenere questi parametri che ci servono e a realizzare insomma queste copie virtuali in maniera sufficientemente precisa. Ma ci sono degli strumenti più difficili diciamo da riprodurre rispetto ad altri quelli che pongono insomma le sfide più impegnative? Sì questo non dovrei dirlo perché io mi occupo soprattutto di clavicembali e quando ovviamente parlo con cembalisti a loro dico spesso che ho scelto il clavicembalo perché dal punto di vista della modellazione matematica risulta essere forse lo strumento più semplice per una serie di ragioni. Loro ovviamente questa cosa non l'accettano perché per loro invece il clavicembalo è uno strumento estremamente complesso. Però diciamo che ad esempio rispetto ad uno strumento a corda nel clavicembalo manca per esempio l'interazione della mano sinistra quindi non bisogna modellare diciamo quello che la mano sinistra fa perché quello che succede è che uno preme su un tasto il plettro diciamo viene espulso dalla dal suo alloggiamento e il plettro poi per quota la corda la mette in vibrazione. Però diciamo che questo tipo di contatto sicuramente è molto più facile da modellare rispetto all'interazione tra la mano di un musicista e una corda come avviene ad esempio nel violino. Inoltre le corde del clavicembalo ad esempio rispetto alle corde del pianoforte sono tra virgolette più matematiche nel senso che quando appunto i clavicembali sono stati inventati l'idea estetica all'epoca era quella di avere una serie armonica quasi perfetta quindi si utilizzano corde ad esempio molto più sottili rispetto al pianoforte che invece ha un'armonicità importante. Insomma tutti questi elementi mi fanno presagire che il clavicembalo sia tra tutti gli strumenti forse uno dei più semplici da modellare semplicemente perché ci sono alcuni cioè non ci sono alcuni elementi di complicazione come appunto interazioni con le mani dei musicisti eccetera eccetera. Anche gli strumenti a fiato possono essere particolarmente complessi in quel caso perché c'è tutto un discorso di fluido dinamica che entra in gioco e quindi insomma anche a livello computazionale può essere difficile realizzare l'interazione tra quello che succede per esempio tra la bocca del musicista e l'imboccatura dello strumento. Quindi insomma il clavicembalo mi sembra un buon punto di partenza. Ecco e all'interno del team che lei sta guidando ci rientrano diverse competenze, diverse discipline ovviamente quindi che tipo di interazione c'è proprio tra esperti di diversi settori scientifici? Sì è un'interazione molto importante anche perché diciamo che quando sono entrato a far parte del sistema italiano universitario mi sono in un qualche modo trovato a scegliere tra diverse opzioni. Di fatto l'acustica musicale non è contemplata nel sistema italiano che come sappiamo è gestito insomma dai cosiddetti settori scientifico disciplinari e l'acustica musicale non è contemplata in nessuno di questi. Però è una secondo me una disciplina estremamente affascinante perché include diciamo si trova un po' all'intersezione di tante altre discipline. Io sono un fisico, lavoro nel dipartimento di ingegneria ma di fatto sono un fisico che poi ha studiato appunto tutti questi modelli numerici matematici. Quindi quello che faccio io si trova un po' all'intersezione tra l'analisi numerica che è assolutamente necessaria per costruire gli algoritmi che il computer è in grado di leggere, la matematica applicata, la fisica, l'acustica diciamo come materia ingegneristica e ovviamente l'informatica che è assolutamente necessaria per costruire i software che poi vengono sviluppati nel contesto di questo progetto. Quindi diciamo che io sono un po' un manager che si occupa un po' di tutte queste cose però all'interno del mio team ho selezionato delle persone ognuna delle quali si occupa diciamo di una di queste discipline in maniera più specifica. Quindi in questo momento ho un ragazzo, Sebastian, che ha cominciato il dottorato a inizio novembre e si occupa di tutta la parte sperimentale. Quindi lui si occuperà di utilizzare gli accelerometri, i vibrometri, i martelletti, gli shaker per andare a misurare le risposte acustiche delle tavole armoniche e quant'altro. Dopodiché ho un altro ragazzo, Riccardo, che invece è con me da un anno, anche lui è un dottorando e lui è un fisico come me e quindi si occupa della parte di modellazione matematica, di sviluppo di algoritmi e così via. Ho una ricercatrice dalla Finlandia che si è aggiunta in realtà non con i fondi nel mio progetto ma con dei fondi che ha trovato lei dall'Accademia delle Scienze Finlandese e lei è anche un'esperta di modellazione elementi finiti e di, diciamo, misura sperimentale, quindi lei ci aiuterà a mettere in piedi tutte le catene di misura. Poi avrò un ragazzo invece che arriverà dal Regno Unito, a breve, e lui si occuperà invece di costruire delle, diciamo, dei controller, no? Delle tastiere virtuali, o meglio, delle tastiere fisiche che controlleranno gli strumenti virtuali, che però hanno anche una feedback aptico. Quindi chi suonerà questa tastiera sarà in grado di sentire sotto le dita quello che in teoria il musicista sente quando suona un clavicembalo vero. E poi avrò invece un'altra persona che arriverà, diciamo, più avanti nel progetto, che si occuperà di tutto lo sviluppo software e quindi produrrà poi i cosiddetti plug-in che poi la gente potrà scaricare dal sito web e utilizzare a piacimento. Chi si occupa di music production a casa ha a che fare con i cosiddetti plug-in che sono dei software che possono essere caricati nelle digital audio workstation, diciamo, no? Che sono dei grandi contenitori che, diciamo, si utilizzano quando uno produce e registra musica. Quindi queste digital audio workstation sono in grado di caricare i plug-in e il plug-in può essere o un effetto o uno strumento virtuale. Quindi noi costruiremo questi strumenti virtuali e chi vorrà da casa, anche con una tastiera, diciamo, MIDI standard, quella di plastica, diciamo, che si trovano negli studi musicali, sarà in grado proprio di suonare questi strumenti. E quindi questi software saranno presenti sul sito internet e potranno essere scaricati. Il MIDI è il protocollo di messaggi che serve a controllare, diciamo, questi strumenti da un protocollo standard e quindi quando uno schiaccia il tastino sulla tastierina MIDI, la tastierina invia il messaggio al computer e il computer è in grado di processare, diciamo, tutti i dati contenenti in quel messaggio per produrre la nota dello strumento virtuale che in quel momento è caricato nel computer, no? Quindi noi faremo esattamente questo. E poi anche all'interno dei musei, del sistema museale, insomma, di Bologna, dove sono custoditi questi strumenti, voi collaborate con queste realtà importanti, sarà possibile magari per il visitatore entrare nel museo e sentire quindi il suono di quegli strumenti che stanno vedendo, ma che ovviamente in quel momento non potrebbero altrimenti sentire suonare. Sto collaborando in maniera abbastanza strutturata con la collezione Tagliavini qui a Bologna, che è una collezione incredibile di strumenti appunto come clavicembali, ma anche pianoforti, e in realtà nella filosofia di Tagliavini, il fondatore, che oggi purtroppo non è più con noi, l'idea era quella di acquistare strumenti che fossero praticamente suonabili o per i quali fosse necessario un minimo restauro, quindi un restauro non invasivo, in modo tale da riportarli a suonare. Quello che è successo però è che il museo ha recentemente acquisito una copia di uno strumento antico italiano, probabilmente un Alessandro Trasuntino, che è stato uno dei maestri veneziani di fine Cinquecento, e questo strumento è completamente non restaurabile, nel senso che si trova in una condizione tale per cui il restauro sarebbe totalmente invasivo e quindi probabilmente anche poco etico. E con la bravissima curatrice del museo, Catalina Vicenz, stiamo pensando di mettere in piedi un progetto che coinvolgerà anche il mio gruppo di ricerca e quindi stiamo cercando di appunto riportare un po' alla luce il suono di questo strumento che altrimenti sarebbe completamente perduto. Allora grazie ancora al professor Ducceschi, attendiamo poi di sentire proprio il suono virtuale di questi antichi strumenti, magari in un prossimo collegamento. Certamente.